Siamo con mister Pardo del Licata, mister del Licata, post miss Licata 2 a 1. Una breve analisi mister su questa partita? Sì, diciamo che abbiamo preparato la partita per come è iniziato il secondo tempo. Abbiamo regalato un tempo all'avversario, come ho già detto, quindi il primo tempo la Nissa ha dominato il lungo e il largo, eravamo quasi inesistenti. Poi il secondo tempo ci siamo sistemati un po' ma ci trovavamo sotto un gol, quindi non era facile recuperare in un terreno del genere perché siamo abituati a giocare al calcio, questo magari non ci è stato permesso. Però faccio i complimenti alla Nissa perché soprattutto mi legano tanti ricordi, è l'allenatore grandi amici con Alessio, quindi devo dire che alla fine va bene, il nostro obiettivo è la salvezza, stiamo costruendo questo soprattutto in casa, dobbiamo rimanere concentrati e iniziare già sin da domani a pensare al match in casa che avremo domenica. Grazie Ministro. Grazie a lei. Grazie. Grazie a lei.